Fai la SEO, fai i contenuti, ci sono tantissime tecniche, approcci per trovare nuovi clienti. Se avete un prodotto molto grande, questo vale anche per i servizi, molto complesso, con tantissime funzionalità, provate a pensare se potete prendere una di queste funzionalità, staccarla, quindi fare una costola del prodotto principale, e brandizzarla diversamente, in modo tale da comunicare solo quel prodottino, perché è molto più semplice farlo arrivare all'esterno, lo potete rilasciare gratuitamente, potete concentrare lì gli sforzi di marketing, perché le barriere sono molto più basse, e poi quando le persone arrivano a quel prodotto, provate in qualche modo a portarle sul prodotto principale.